Il 17 febbraio la zona traffico limitato di Como verrà estesa a Piazza Roma e successivamente anche a Piazza Volta. Oggi il sindaco della città Mario Lucini ha firmato la nuova ordinanza che disciplina il transito e la sosta all'interno della ZTL. Non mancano le novità. Innanzitutto i titolari di parcheggi per residenti non avranno bisogno di ulteriori autorizzazioni per accedere alla ZTL. Sarà infatti sufficiente compilare un apposito modulo rilasciato da Como Servizi Urbani. Oltre ai residenti anche i domiciliati potranno richiedere il contrassegno. Novità pure per gli agenti di commercio che, al posto dell'iscrizione all'albo degli agenti che ormai non esiste più, dovranno presentare l'iscrizione alla Camera di Commercio o l'attestazione dell'iscrizione all'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per quanto riguarda i veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi pubblici e commerciali, sono state estese le fasce orarie durante le quali si potrà accedere alla ZTL dalle 6 alle 10.30 e dalle 14 alle 15.30 da lunedì al venerdì e dalle 6 alle 10.30 del sabato. I veicoli con dimensioni superiori a 600 cm di lunghezza e 200 di larghezza e altezza potranno accedere solamente nella fascia orarie tra le 5 e le 10.30 da lunedì al venerdì. Nell'ordinanza, infine, è prevista l'esclusione della richiesta di autorizzazione per i veicoli diretti ai parcheggi Arena e Iasca e per i veicoli che accedono alle auto-officine in zona traffico limitato. Queste sono solamente alcune delle novità. L'intero testo dell'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune di Como.